PYRAMID EZIR ACTIVATED EZIR ACTIVATED Mira i serbatoi di gas La brutta notizia è che anche questa porta è bloccata Senza contare che in comando sono molto felici di vedermi Ti copro Chiusa Le porte stanno finendo l'ultima è in fondo al cortile Coprimi, devo raggiungerla Ok, fermo dove sei Ti farò sapere quando sarò in posizione adatta per coprirti Se non fosse riuscita ad arrivare all'altro lato del cortile Non sarei sopravvissuto Semplice Scutti Ok, azione. 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 Ok, azagę. sono davanti a uno scavo vedo una via d'uscita sono in fondo allo scavo troverò un modo per risalire ok il commando non ci lascerà andare via chiacchiere con loro ho trovato un ascensore ok vedo l'ascensore i ripulitori se ne sono andati via libera sparare è solo una questione di scelta puoi premere o non premere il grilletto ferma ferma aspetta stanne fuori max stai solo peggiorando le cose sei stato sospeso è una di loro è qui per uccidere sto solo facendo il mio lavoro è una fuggiasca sospettata di omicidio la sto per mettere dentro se oppone resistenza a sparo con la rapidità di un proiettile che squarcia la carne gli organi e le della vittima svanisce l'immagine di chi ha premuto il grilletto calma stai indietro questo è quello che vedo quando mi volto indietro questi momenti accecanti come la neve ti uccidono ti cambiano muori e rinasciti è così no mora winterson colpi d'arma da fuoco da questa parte presto via via corri colpi d'arma da fuoco da questa parte presto via via corri la regola del buco non importa quanto tempo ci metti per uscire vuoi sempre ricaderci in un istante il nostro canale il nostro canale Grazie a tutti.